Verso la fine del trattamento, trovo che la tecnica McKenzie e le estensioni funzionino molto bene. Possiamo mantenere l'estensione per il paziente molto facilmente usando il letteno. Possiamo passare dal torace, la parte superiore del corpo, e ancora una volta possiamo controllare con i goniometri dove possiamo arrivare con la nostra estensione. Oppure, volendo, possiamo usare le sezioni posteriori per l'estensione degli arti inferiori. In questo modo, proseguiamo con la mobilizzazione. Se facciamo girare il nostro paziente sulla schiena, possiamo davvero lasciare che sia la gravità a fare tutto il lavoro. E possiamo lavorare con una posizione molto estrema. Solo per avere un'idea della posizione che possiamo fare adottare al paziente sul lettino, che può essere molto interessante anche per gli atleti, per rilassarsi in questa posizione e per respirare usando la respirazione addominale. Il paziente può sollevare le braccia per allungare l'intera catena anteriore e fare un'estensione della parte bassa della schiena e vedere le differenze nel range di movimento delle spalle. Ecco qui.